Eccoci alla fine di questa giornata. Cosa succede alla fine di una giornata? C'è quella che si chiama ricapitolazione, ovvero una revisione, una rivisitazione degli eventi in modo tale da poter integrare gli insegnamenti affinché le esperienze negative non si ripetano più, nel senso ho imparato la lezione e quindi ho capito, e quelle positive possono moltiplicarsi. Quindi partiamo subito con il nostro audio di fine serata, pochi minuti dedicati a una riflessione giornaliera. Quindi partiamo dal punto karate. Oggi è stata una giornata particolare, sono avvenuti tanti eventi e alcuni mi sono piaciuti e altri non mi sono piaciuti. Io per prima in alcuni momenti mi sono piaciuta e in altri non mi sono piaciuta e mi do la possibilità di imparare. Sopra la testa sono qui per imparare. L'obiettivo non è la perfezione, è la realizzazione. centro dell'occhio, sento pace e faccio pace con me stessa, con la giornata, con gli eventi, con le persone. Lato dell'occhio, permetto alla mia energia di appoggiarsi al flusso, per poter riposare pienamente. Sotto l'occhio, non ho bisogno di rimanere allerta, posso entrare nel parasimpatico, l'emisfero parasimpatico e rimanere in pace. sotto il naso, mentre mi rilasso, integro tutti gli insegnamenti della giornata. Sotto la bocca, lascio andare le esperienze dolorose e faccio tesoro di ogni esperienza positiva che è avvenuta. Clavicola, mi preparo per un sonno profondo, ristoratore e portatore di grandi consigli. Punto del timo, è un momento di connessione col mio inconscio che mi permette di avere straordinarie connessioni e viaggi interiori. Sotto l'ascella, è un momento in cui deposito tutta la mia vita nelle mani del flusso, sotto il seno e mi sento pienamente appagata. Voglio fare un sonno consapevole e ristoratore, incontrando nell'invisibile presenze positive che mi sostengano e mi diano la giusta intuizione per una prossima giornata meravigliosa. Punto delle dita, ringrazio di essere qui, di questa esperienza e di questa notte meravigliosa e di questa giornata che mi ha insegnato tanto. Grazie. Un bel respiro e lasciamo che tutte queste parole si dimentino dentro di noi e sera dopo sera facendo questo esercizio proprio ti accorgerai di come ti dà questa pace, questo appoggio e anche questa possibilità proprio di rivedere la tua giornata, di capire alcuni eventi, di capire alcune cose, non vivendolo in modo assolutamente personale, ma vivendolo con la luce della consapevolezza e della centratura che ti può dare una nuova visione qualunque cosa sia accaduto e una possibilità di risveglio reale, autentica e di insegnamento. Grazie.